ma buongiorno buongiorno eh eh vedi la dosa stronzo no ma io l'ho comprato sai che tanto questo pezzo costa 20 euro la violenza no però ma vabbè come mai ti funzionava la grattugia eh perchè sono stronzo eh nonna marie che faceva è tanto di valore ma perchè anche prima ti funzionava sta grattugia hmm è buong è che non che è la mia si stuola met me è il giusto non è bene non è per il giusto è appena il giusto è Ora metto l'acqua per le pezzi Non tirano le culo da manchi Eh? Eh, non mi piace il culo oh salame, non hai messo, non hai messo Ma che cazzo dici? E ti dà via la voce? Certo. Che sei qui? Niente. Parlo. Andaggia la noia! E' uno strumento! Per forza! Come funziona? E? Oh! Ma va a fare un culo! Per forza! Per forza!